beh parliamo di nuovo dell'album di figurine ragazzi sono tornato sono qui al club ne ho aperte un mare ne ho trovate un bel po tante doppie ma questo era inevitabile è ora di venire a scambiare al club fa un pochino 28 settembre grande festa comunque vi faccio vedere ancora qualcosina dell'album qualche bella pagina un po aggiornata dove siamo arrivati di figurina bellissime ce ne sono tantissime ragazzi ovviamente questo è un po laminate argentate dorate sono sicuramente farle più rare questa pagina per bella completa con le copertine di cronaca faccio vedere a che punto è il mio album ce ne mancano due poi gli altri ci sono sono ricordate di questa di ortolani colorato della merulla uscirà il prossimo numero di cronaca di topolinea la saga dell'anno è completa tanda è bellissima finalmente il paginone su tanda e con le copertine di tanda e completo con h comics ne manca una island hoc bellissimo la mirulla pagina di sexy tale sa anche questo completo favoloso eh fatemelo dire ci sono già le copertine del prossimo numero che uscirà lucca comics questa era già completa la branch cover numero 100 argentata e pagina centrale non è così semplice a completarsi e ne mancano un po ne mancano un po super tiz completo bellissimo super tiz il provolone ispirato all'amico paolo recano le monique ive zauro martin mister mister martin anzi bellissime gabbia dorata oggi abbiamo trovato un bel po di gabbia dorata siamo usciti a fine della pagina lucky town guardate che solo sa copertina di francesco buonanno sortisi a pagina sortisi a di lorenzo balocco e maria rosale londolfi e lo coloro in maniera magistrale completa e qui ci sono uscite luna l'ex il prossimo numero 2 1 puc 2 che uscirà lucca nix la nuova serie di franceschini e squadrito planet dead attesissima di costarelli e bonazzi crazy tribe completo gli albetti ci con la storia west di aboli martin mister e gli albetti meraviglioso qui c'è la nostra storia che ne abbiamo fatti quanti ne abbiamo realizzati in 30 anni questi albetti la storia del far west in edit in italia ragazzi nostri migliori autori italiani all'estero e qui ci sono gli albetti esclusivi per i soci di aboli zago dragonero mister no chico e il nuovissimo martin misteri qualche figurina manca ancora ovviamente siamo siamo vicini però è abbiamo aperto e verso la fine cominciano a diventare di nuovo difficiline abbiamo aperto una scatola e non dico e mezza ma è un quarto sicuramente insomma ragazzi 28 settembre vi aspettiamo al 3 del fumetto ci scambiamo le figurine ci sarà elena merulla disegnare ci divertiamo con dei pazzi a presto grazie a tutti